La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare un altro mestiere. La gran macchina si ferma, la vita sale per un rin, si è annunciato violenta. Non importa dell'età, ma tu sa che chiuderà gli occhi neri e penserà solo all'Africa che presto sarà libera. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. La storia di questa ragazza che è venuta in Italia per fare la modella e poi mi è capitato di fare la modella. Ciao ragazzi, grazie mille.